Con una nuova ordinanza emessa nella serata di ieri, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha ordinato la chiusura anche per venerdì 10 febbraio delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville e parchi pubblici e il cimitero. Il comune raccomanda ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti e di non sostare in prossimità di aria a rischio. Il bollettino meteo dinamato nel pomeriggio di ieri dal Dipartimento regionale di protezione civile prevede anche la giornata odierna il livello di allerta arancione, per rischio meteo, idrogeologico e idraulico con previsione di forti temporali e rovesci, anche a carattere nevoso sopra i 500 metri di altitudine. La prefettura, già dal pomeriggio di ieri, è in costante contatto con i sindaci di tutto il territorio provinciale al fine di monitorare le condizioni meteo. Sono stati preallertati i centri di coordinamento comunale al fine di assicurare una pronta attuazione delle misure previste nelle pianificazioni di emergenza. Il prefetto ha rinnovato l'invito alla popolazione ad adottare massima prudenza negli spostamenti ed evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.